Innotec fornisce attrezzature e diagnosi complete per officine, carrozzerie e centri revisione, nonché attrezzature per autolavaggi. Innotec, lo specialista sempre al tuo fianco. L'Associazione Produttori Ceramica di Vietri sul Mare, presieduta da Benvenuto Apicella, ha candidato il disciplinare d'uso per l'IGP Ceramica Vietri, formalizzando la prevista procedura presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il di Castero, guidato da Rodolfo Urso, che ha voluto incentivare la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici. Vietri sul Mare e i suoi maestri artigiani hanno dunque raccolto l'opportunità, candidandosi a tutti gli effetti a registrare una tappa fondamentale per la tutela della ceramica vietrese. Forti dell'affiancamento dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone e con l'impegno dell'assessore alla ceramica Daniele Benincasa, molti imprenditori ceramisti hanno risposto all'input di avviare l'iter del riconoscimento europeo della ceramica vietri. In un sistema che vede la globalizzazione ormai imperversare dappertutto, non potevamo non cogliere l'opportunità di difendere e tutelare ulteriormente la nostra ceramica, ha dichiarato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, con uno strumento efficace e che potrebbe aprire a nuove sfide culturali e commerciali. Tocca ora ai nostri ceramisti essere protagonisti del loro destino, che si annuncia con un cammino duro e faticoso, ma che ci vede saldamente convinti al loro fianco. Il coordinamento delle attività per l'iter del riconoscimento è gestito dall'associazione di categoria CNA Salerno e la consulenza tecnica è seguita da Salerno AgriService SRL, che ha un consolidato curriculum sul riconoscimento dei marchi agroalimentari. I ceramisti che hanno firmato per il deposito del disciplinare fanno tutti parte del comitato tecnico IGP ceramica Vietri. Avere questa responsabilità sicuramente spaventa, ma siamo coraggiosi. La squadra è forte e arriveremo a Bruxelles, ha dichiarato benvenuto a Picella, che è stato voluto a capo dell'associazione di produttori ceramica Vietri. Dal nuovo organismo, unitamente a CNA Salerno e al comune di Vietri sul mare, fanno sapere che all'associazione IGP ceramica Vietri possono sempre aderire altri ceramisti e che a breve si terrà una riunione per presentare a tutti il lavoro fatto finora e i prossimi passi da seguire.